incidente mortale sul lavoro oggi a lanciano un uomo è stato colpito da un masso in una cave ed è morto ha riportato un'emoragia interna a dare l'allarme sono stati familiari non si esclude che l'uomo sia caduto dal muro di contenimento della cava a causa di un malore sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta nella serata di ieri il personale della polizia di stato è intervenuto nella frazione aquilana di tempera nei pressi della pizzeria il focolare di bacco per la segnalazione di una persona a terra picchiata selvaggiamente da un uomo arrivati sul posto gli agenti della squadra volante della squadra mobile hanno appreso da vari testimoni che l'aggressore un 55enne dell'aquila successivamente identificato e con vari precedenti di polizia aveva colpito con calci e pugni il fratello di 49 anni e dopo essersi allontanato era tornato armato di coltello continuando l'aggressione fisica solo l'intervento di alcune persone presenti nella pizzeria ha fatto desistere l'uomo che si è allontanato all'istante la pattuglia della volante è riuscita ad individuare immediatamente l'autore del reato decidendo di effettuare una perquisizione nella sua abitazione nel corso della quale è stato rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato nell'aggressione sul quale erano ancora presenti tracce ematiche il malvivente ha continuato a minacciare di morte il fratello anche davanti agli operatori della volante l'uomo è stato arrestato e su disposizione del pm di turno simonetta ciccarelli è stato tradotto in carcere mentre la vittima è stata trasportata e ricoverata all'ospedale civile san salvatore con numerosi traumi fratture ferite al volto al torace e alla mano nel corso delle ultime settimane su disposizione del comando provinciale dei carabinieri dell'aquila sono stati eseguiti nei comuni di celano e pescina una serie di controlli straordinari del territorio finalizzati a contrastare tutti i fenomeni criminali ed in modo particolare furti e rapine nell'ambito di questi controlli è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare sono state denunciate due persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono state identificate complessivamente 127 persone di cui 14 straniere e controllati 106 veicoli elevando 14 contravvenzioni al codice della strada sono stati inoltre controllati 17 soggetti sottoposti a misure preventive e sono stati controllati 15 esercizi pubblici i controlli fanno sapere dei carabinieri continueranno anche nei prossimi mesi in tutti i centri della marsica dovrà ripetere l'anno scolastico ma potrà frequentare l'alternanza scuola lavoro lo studente 18enne giuliese dell'ipsia pagliaccetti di giulianova che lo scorso 20 febbraio ha colpito con una coltellata al volto un compagno di scuola 17enne nel corso di un alterco è l'effetto della decisione di sospensione dall'attività didattica fino a giugno adottata dal consiglio d'istituto alla scadenza del provvedimento temporaneo di sospensione di una decina di giorni in attesa della conclusione dell'istruttoria dell'organo collegiale sulla vicenda il pugno duro usato dal consiglio è stato accolto con amarezza dalla famiglia e dal giovane stesso che attraverso il suo legale sta valutando l'ipotesi di ricorrere per il momento all'organo di garanzia della scuola per quel che riguarda il minorenne ferito ancora in convalescenza dopo l'intervento per la saturazione della ferita la guancia sinistra il consiglio d'istituto non adottato provvedimenti in attesa di ascoltare la versione dei fatti avevano venduto quattro auto rubate a pescare bari immatricolate con una falsa documentazione di circolazione facendole risultare come importate dall'austria o dalla germania grazie all'utilizzo di atti contraffatti o rubati in bianco quattro pugliesi sono stati denunciati alla procura di teramo per ricettazione falso uno dei quattro era in regime di affidamento in prova per altri reati per lui il magistrato ha deciso di disporre gli arresti domiciliari la truffa per coprire una più vasta attività di riciclaggio di auto di provenienza furtiva è stata scoperta dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria del comando di teramo diretta dal dirigente pietro primi e coordinata dal sostituto commissario stefano di stefano attraverso il costante controllo dei fascicoli di matricolazione dall'estero effettuato alla motorizzazione civile di teramo gli agenti hanno individuato quattro auto di media gamma ha aggredito un'ultraottantenne che accudiva e che si rifiutava di darle più soldi di quelli pattuiti e poi ha aggredito anche gli agenti della squadra volante è accaduto a pescara dove una badante cinquantasettenne di nazionalità romena è stata arrestata in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed associata presso la sezione femminile della casa circondariale madonna del freddo di chieti la stessa dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 572 del codice penale in conseguenza dei maltrattamenti attuati nei confronti dell'anziana signora che saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte degli inquirenti l'intervento degli agenti due giorni fa dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di una signora oltreottantenne la quale spaventata e tremante era scappata dalla propria abitazione e si era rifugiata presso quella del vicino di casa per sfuggire all'aggressione della propria badante musica